Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke e bentornati a questa nuova puntata di Contra Strike Global Offensive. Bene, questa sera siamo in tre, siamo io, vabbè, Mr. Tyke, GLaDOS e Vitto il Mito. Bene, eccolo lì, voilà, scusa che ti ho parlato sopra il saluto. E niente, Vitto il Mito mi diceva che doveva dirvi qualcosa a voi iscritti, ha detto, devo dire una cosa a voi iscritti. A te la parola, Vitto. Sei uno stronzo, comunque, volevo scusarvi perché nello scorso episodio di Contra Strike le mie parole venivano troncate a metà. Vabbè, ma quello era un problema del microfono, penso che adesso tu abbia risolto, se no anche adesso. Sì, sì. Cioè, non lo so, tipo, o il microfono che mangia te o sei tu che mangi il microfono, vabbè, qualcosa del genere. Non ho il microfono che mangia te. Bene, 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 perfetto. Dagli cereali che va bene. Allora, niente, in questa puntata, ragazzi, facciamo una corsa alle armi, visto che nelle scorse puntate abbiamo fatto una deathmatch e una... Scusate, una deathmatch e poi dopo una cosa abbiamo fatto una competitiva, vabbè, qualcosa. E in questa puntata faremo una corsa alle armi. Bene, io, come al solito, v'avviso, sono Nabbo. Vitto il Mito cercherà sicuramente, ma ci posso scommettere quello che voglio, quello che volete voi, che cercherà di farmi le penne. E Glados, non si sa, è neutrale. O va da una parte o va dall'altra, non si sa. Non si sa. Bene, allora, facciamo subito una ricerca, direi, della partita. Credo che questo video venga un po' più corto rispetto agli altri, ragazzi, perché comunque gli altri erano un po' più lunghi. Ma partita privata? No. E mi sono permessi partita privata? Per la lobby. Infatti avevo messo, perché non potevano entrare quelli non invitati, se no qua c'è gente in tutte le parti. A parte il fatto che avevo due amici online che avevano Contra Strike al momento. E via. Poi altri, sì, poi altri mi hanno eliminato come amici, non si sa come mai, storie varie, vabbè, che non me ne frega, per me i giochi rimangono giochi e la vita rimane vita. Quando mi stacco dal computer, per me la vita è vita. Ragazzi. Allora, continuiamo. Oh, ragazzi, io ho antiterroristi, ovviamente. Ma io ne sono più bebe. No, ma io volevo mandarino a canne mozze. No, è vero, me l'ho scontato che nelle corse alle armi c'erano le armi che corri... C'erano le... Cosa fa? Ui, 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 ui. Voilà. Ma io nei terroristi mi faccio tutta la taica. Ah, ma sono ancora rispettamente. Non è già andato. Ragazzi, è stata un po' più la voce perché mi sa che adesso di abbassare il volume non posso, mi sa, e mi sa che si sente basso. Perché mi continua? Vabbè. Andiamo. Move it, move it, move it cosa? A me move it non me lo dici. Dove sto, dove sto? Mi chiesto, sta mappa la odio, ragazzi, non la conosco. Siamo tipo da solo, da soli contro i bot. No, ma non c'è nessuno in giro. No! C'è Vittorio. Ti odio, ti odio, GLaDOS. Ma siamo contro i bot, veramente? Eccolo lì, l'ho visto. E vabbè. No, i ragazzi, sta mappa la odio. Secondo me, è di più me che la mappa. Io stranamente sto andando bene. Adesso sto parlando, non ho fatto niente proprio. Ma ti stai già andando anche questo. Quindi qua. Vieni qua. Ehm, già al nuovo. No, 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 è stata mappa la odio troppo, la odio troppo. No, 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 no. Tu cosa fai lì? Ma chi stai sparando? Non siamo a cacciare... Ah, eccolo. No. E via. Eh sì, muoio pure io, però. Sì, quando ti ti pari qua, bot. Perché prima abbiamo fatto una piccola colza alle armi per allenarci. Ed è andata benissimo. Ed è andata benissimo. Tanto che Vito il mito poi alla fine mi ha ammazzato a me col coltello d'oro. Sì. E questo che lo ha detto. Sì. Ma come fai? Voilà, chi è che è morto? Vito il mito. E se è giro ti ho fatto il culo io. Ah, ecco. Ecco, adesso cominciamo a capire. Stronzo. Minchia. Where is? No, io ho un fucile tipo arrugginito, me l'hanno preso lì dai cinesi. E io ho uno di vita. E io non riesco a mirare niente con questo fucile dai cinesi, ho detto che era dai cinesi. Sto Uzi, cos'è? E di China. Tutto fatto in Giappone. Però intanto faccio il culo a Vito. Ah. No, l'ha ammazzato il bot. Il bot pat pat qua. Pat, pat. Infatti chi è l'amici? No, guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì, ti devi vedere come sei morto, eh, ti devi vedere sto video. Bellissimo. Lo so, lo so. Tadus proprio mi sta dando problemi. Qua è morto di culo. Mi, mi, no. Qua c'era una stronza che mi sparava. No, ma che cartino deficiente che sono stato caricato mentre stavo andando, sapevo che c'era uno dietro caricato mentre ci sono andato contro. Dov'è? Chi è che fa eco? Non t'ho visto. Ma che è un po' stardo con il fucile a pompa? Non t'ho visto. Non t'ho visto, scusa, ti volevo sparare. No, 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 la so. Eh, la WP, così. Ma tu, GLaDOS, che squadra hai preso? Che sì, che sglada hai preso, stavo dicendo. Eh, sono degli antiterrorismo, sai, quello che chiedi. Grande. Ma io perché ho convinto che mi potessi imboscare? A me c'ero lì che mi stavo fregando la legna per l'inverno. No, 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 no. No, no, no. E chi ti ammazza? E chi ti ammazza? Avevo poca vita. Carica, carica. Bello, questo qua è un fucile... Madre. È un fucile a corrente a scrocco, perché avete, c'è il simbolo nucleare, quindi a centrale nucleare a scrocco proprio. È un fucile supero GLaDOS. Vieni qui. Ma io ho ammazzato quello della mia squadra, anziché Vittorio. Non chiamatemi Vittorio, che se no... Vabbè, vitto il mito, scusa, eh. Vitto il mito. Omito il vito. Che ti fai ammazzare alle spalle da me. Mi potevi mettergli il coltello? Ok, sono primo, sono primo, devo mantenere questo titolo. Voilà, muore. Non è riuscita a casa, come dico sempre. Non crede che mi spari da dietro. Stronzo col coltello. Vabbè, come sono morto, che c'è fatto proprio la posa, oh, oh, sono morto. Ma i anni, chi col coltello ti viene tolto un'arma, perciò... Ti ammazzò molte volte col coltello, fido. Ma va a fan cuspita. Io sono sui tetti che campero con la pistolina. Eh, infatti ero col fucile a porta, è vero. Perché quando sono con la pistolina non riesco più a fare nulla. Ma grazie, stessi sempre con la pistolina. No! Uuuuh, il mandarino a camemozze! No, sono morto. E mi ha ammazzato con lo stesso fucile. C'è il mandarino, il mandarino, il mandarino. Il bottiglino è un bastardo. Voilà, ed il mandarino è già finito. No, mi hanno ammazzato alle spalle. Guarda, uno stronzo mi ha ammazzato alle spalle, chissà chi è. Che c'è il mio stesso tag e c'è il gruppo di Svarnak. Oh, non li faccio ricordi. Forse facciamo un'altra partita, ragazzi. Perché se mi hanno fatto un'altra partita, dobbiamo fare un'altra partita. Eh, mi sa proprio di sì. Chi è sto qua? Madonna. E siamo a due, voilà. Oh, finalmente qua col coso, col FAMAS. Il micio mortale. Miau! No, no! Chi è, basta! E quando arrivo il coltello dorato... Oh, è stata in terza posizione. Io vado in crisi alle pistole. Eh, mi devo un attimo scaldare, come il motore di una macchina. Quando poi si scalda, consuma un casino. Non c'entra un cazzo, non so perché. Le ha detto una micchietta pazzesca. Sì, con la K-47 mi sono fatto ammazzare da un bot LAN. Non so se è un modem. Bot Ethernet. Hai capito? Si chiama bot LAN. Quindi significa che qua c'è qualcuno. Toh! Perché hai cambiato l'arma? Toh, poi intanto c'ho anche le notifiche... Toh, vittorio! Uh, l'ho ammazzato! Grande! Grande! Intanto c'ho anche le notifiche di TeamSpeak aperte. Dai, Baggage 3, dai, vai, vai, via. Scusate ragazzi, mi sono dimenticato TeamSpeak con le notifiche aperte. Mi dovete veramente scusare. Facciamo una seconda partita perché è stata veramente bella e magari anche a voi piacerebbe vederla o non lo so. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Come se non è giusto, cosa non è giusto? Non è giusto, bimbi, bimbi, non è giusto. Però siamo tutti coi bot, ma veramente non è commesso privato, per lo sbaglio. Ma non credo. Sì, non è messo privato. Vuoi dire? Vabbè, è meglio, posso muazzarvi più. Va bene, è più bella tra di noi. Voi mi vedete con i terroristi, ma non sono i terroristi. Con i terroristi? Terroristi, immuna. Senza offesa. Avete già piazzato la bomba? No, mi ha modificato, mi ha colato male, ci scusiamo per il disagio. Ah, stai camperando? Stai camperando la bomba? Sì. Bellino quanto ci metto a caricare qua due ore, ok. Oh, ma ha sentito, eh? Ah, a me è ancora zero il caricamento. Ok, ragazzi, ricordiamo che questo qua è un video di transizione, è un video tra un video e l'altro, nel senso che quando non sappiamo cosa fare, registriamo, quindi non sono né seri e né niente, ma soprattutto non sono neanche seri come video, non seri. Ok, andiamo. Ok, cioè, io non riesco a capire, bot Nick, bot Katz, bot tutto quanto, non riesco a capire niente. Bot di cool no, eh? Tutti i bot, ma bot di cool mai. No, guarda. Metti ilổi, ultimamente. No, ma che passa? Guarda che mi ha fatto un maricino? Buona cambiata, ne. No, 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 no. Glados, smettiti negli antiterrorismi, vado, vado. Sei terrorista? No, l'ho cambiato physito. Hai messo negli antiterrorismi, adesso. No, eh, no, no, no. Comincia mai. Questa l'originità dei cinesi, cioè, ragazzi. Faccia di merda Che retondo Te lo dico Senza censura E senza niente Ah grazie Ti voglio bene Tanto Tanto Smack Ah io di più Guarda Adesso io passo di qua Faccio un bel lavoro Credo Bastardo Ma guarda come sto sparando Come un nabbo Che cosa ho fatto Ma qua si è fatto veramente Una morte da scemo Proprio Glados Conteniamo il titolo Di primi Ovviamente Glados Con nuova riva Ma perché non sto facendo più una kill Perché sono proprio scemo Vero? Ditemelo ragazzi Ditemelo Viero Bastardo Ah ok bene Detta la cosa migliore Vieni qua Voilà Fucili dei cinesi Di nuovo Sono i fucili dei cinesi Che sono pacchi No ma Dei fregate i cinesi Sì ma te lo giuro Guarda Guarda Sono fucili dei cinesi Pacchi guarda Una volta che passi Sti fucili qua Sti uzi qua Sparacogliandoli E dai E mi ammazza Vittorio Mi ammazza Vittorio Che novità No Glados Dal fianco Adesso le faccio il culo Le avrei potuto accoltellare Sono stato buono Le devo fare il culo Adesso Dai come vuole tanto Bene ragazzi Dovete sapere Sì ma certo Che si miro Sta maniera qui Ma dai Ma dai Ma cos'è il tuo casino Un casino Un casino Poi ci ammazza Tutti quanti Tre di noi Una ammazza Da me L'altra ammazza Da l'altra L'altra Chi è Glados Io non mi Non importa Se sei Mio fratello Io ti sto Odio Sì ma l'avete detto Che state giocando Nella stessa stanza Con due computer Sì Sì Che bello orticello Di gente Che c'è Voi se raccogliamo un po' Sì sì Vai vai Sono il nuovo leader Oh il cratino Sto bot Oh ecco qua Il fucile a scrocco Questo qua Il fucile a scrocco rosso Si chiama Le ho dato il battesimo Battesimato Fucile a scrocco rosso Nonno no no Nonno no Nonno no Nonno no Nonno no Voilà Ah No No C'è C'avevo mezza vita C'avevo mezza vita Guarda Che cinquanta centesimi Sono di meno Sono di meno Della metà di un euro Io voglio sapere Come ha fatto adesso Ti ho fatto sbaglio Con negli Oh guarda Ti ho fatto questo fucile a scrocco Oh la No 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 Rimuore vittorio Stronzing E devo fare un fragmovie Ma non è Dai che è questo E' il Nedge Vai che cos'è Vieni qua Mandarino canne mozze Con il Nedge Con il Nedge E ne ammazza due Ne ammazza due Se non sbaglio Stavo per fragare Glado No hanno ammazzato una sola Cos'è No 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 Vai tranquillo Vai tranquillo Cortesia Cortesia Bot Dustin Che bello Questo qua Il micio Il miau miau Cos'è Il miau miau Mortale Ho coltellato Vittorio Mi sono fatto ammazzare Dei bot Come un deficiente Come al solito E questo Chi è questo Dov'è Vittorio Bastardo Che un pelo Grazie a Grave Ti volevi Sì E fatemi pure ammazzato Questa faccia Da scemo Che c'è in gioco No Non è giusto Basta Basta E chi ammazza Bot Calvin E vabbè Dai 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 No E vabbè Il mio camper Ma che camperare Sto gioco qua Voila Voila Vaffan Ma adesso Avevo fatto una kill Dai Andiamo con questo fucile Sabbiato qua Tornado Farà freddo Farà vento Che cazzo Dovamo fare il video Più corto Menomale che Dovamo fare il video Più corto Uh stranamente Qua non mi sta Dominando nessuno Dov'è No Un po' Che volo No Non c'è solo a me Arrivare Contra Greta No V Sto qua Da dietro Voila Uh la Vp Adesso qua Guarda che figura Di merda Ho il coltello Ma no Vieni più avanti Ammazziamo un bot deficiente Io con la vp non sono capace Peggio delle altre cose Allora tu mi hai rotto il cazzo Che rettondo Greg Ve lo dico proprio senza Vittorio E vai la seconda Vigita La seconda Sei un grande Sei un grande Si ammazzano tre fratelli Ragazzi No no dai La facciamo Dopo Magari la facciamo dopo Adesso usciamo Dai Non possiamo allungare il video Così tanto Bellissimo Mamma mia Mamma mia La seconda volta La seconda volta Che i fratelli Si ammazzano Si ammazzano Ragazzi Ragazzi Questa qua Questa qua Si problemi di connessione Siete nella stessa casa Dai Ragazzi Questa qua E proprio La prova scontrante Che se si ammazzeranno I due fratelli Tra di loro Questa è la prova Del motivo Che cavolo ne so Non so neanche più Cosa sto dicendo Ragazzi Qualcosa Comunque si ammazzeranno 99 su 100 Si ammazzeranno E Qualsiasi aggiornamento O qualsiasi cosa Ve lo scriverò sul feed di youtube Non vi preoccupate E Bene Diciamo Credo che Diciamo Dovevamo fare Una sola corsa alle armi Ne abbiamo fatti due Dai Credo che Ci siamo abbastanza divertiti Dai Speriamo Spero che Spero che anche loro Sperino Vabbè Quella roba lì Dai Quei verbi lì Ma state giocando V2 No Ok Spero che vi abbiamo fatto divertire Non so neanche se il verbo è giusto Non sto capendo più niente ragazzi Sono abbastanza Carico E Niente Allora Da Mr. Tyke Glados Vitto il mito E tutto Come? Saluto insieme E Shows a tutti ragazzi Shows E alla faccia di chi non ci può vedere Shows Shows